clamoroso clamoroso e finisce così la partita al bentecoti il verona batte 2 a 1 la juventus non ci credeva nessuno è successo il verona regà troppo forte sta troppo in palla grande partita del verona grande grande tutor che sta trascinando questo verona con il ciolito simeone che giocatore mamma è un fenomeno è un fenomeno l'anno scorso la voglia al fantacalcio era una pippa quest'anno un fenomeno fa un gol capolavoro il secondo gol regà tanta 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 roba ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a javets oggi siamo qui ragazzi siamo qui nel javets commento il commentario il post partita di verona juventus che finisce 2 a 1 per verona il verona che in casa batte la juventus vittoria che non mi aspettavo sinceramente mi aspettavo al massimo un pareggio ma in teoria mi aspettavo la juve che vinceva questo giro mi aspettavo a questo punto dico che secondo me allegri ristia la panchina se non questa settimana la prossima comunque sta a ristio la panchina di allegri detto ciò fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento un mi piace e iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche mi raccomando venite a seguirci i social trovate il link qua sotto in descrizione cerchiamo di iscrivi iscrivetevi iscrivetevi e passate qui sotto in descrizione andate a seguire anche la pagina in cui sto collaborando ovvero vena romanista uno dei migliori fanpage a tema roma passate anche sul loro sito vendono maglie da calcio e copie per telefono a tema roma con il mio coce sconto javets avete un ulteriore sconto materiale di ottima qualità tempi di consegna circa 2-3 settimane lavorative mi raccomando fateci un salto con il mio coce sconto avete un ulteriore sconto parliamo della partita c'è da dire che questo verona raga veramente gioca un calcio spumeggiante davvero soprattutto là davanti con caprari lasovic e simeone fanno il panico oggi è diviso la juve sarà disastrosa come sempre però posso dire che secondo me diciamo in fase offensiva la juve un po' ha creato soprattutto nel secondo te male la juve soprattutto nel primo tempo quasi inesistente a parte di bala che prende l'ennesimo traversa dopo la settimana scorsa che ha preso il palo questa settimana ha preso il palo con il sassuolo questo giro prende la traversa e più fa dei miracoli incredibili montipò ma un sassuolo un verona che ci crede fino all'ultimo trascinato da simeone il primo gol arriva all'undicesimo minuto su diciamo un cross un passaggio sbagliato di di arthur conquista pala al verona il cross il tiro deviato parato da scesni sulla se non sbaglio sulla respinta segna simeone una cosa del genere il primo gol il secondo gol ragazzi è un capolavoro di simeone un tiro a giro da fuori da fuori aria tipo da 20 metri circa un tiro a giro col destro che si insacca sotto l'incrocio qui scesni non può nulla il secondo gol è un capolavoro e poi ragazzi la juve comunque ci prova attacca ma allora il verona poteva anche allungare poteva portarsi anche sul 3 a 0 ha ristiato la tripletta simeone un'altra volta ha ristiato anche lasovic c'è stato un miracolo dei scesni nel primo tempo sul tiro di lasovic diciamo che il verona ha fatto una grande prestazione secondo me nel primo tempo poteva stare anche a vincere 3 a 0 poi nel secondo tempo la juve si è messa in campo ha giocato ci ha provato con morata soprattutto con dibala con i tiri da fuori poi ci ha provato in tutti i modi a pareggiare però ovviamente diciamo che soprattutto arrabbiò Arthur e nel primo tempo sono stati inesistenti il centrocampo della juve così come la difesa male 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 poi nel secondo tempo si è un po' ripresa però ormai la partita era già quasi compromessa segna l'ottantesimo McKennie poi nel finale c'è un'azione colossale della juve in cui c'è un tiro da fuori aria a giro sotto l'incrocio un sinistro a giro di dibala che fa il miracolo compie il miracolo Montipò e quindi la partita finisce così ragazzi finisce 2 a 1 per il Verona fatemi sapere che ne pensate io sono veramente sorpreso sia dal Verona ma soprattutto da simeone raga ma quanti voleva commentatemi qui sotto quanti collari innanzitutto commentatemi se verrai sonnerato allegri e quanti collari quest'anno farà simeone qua sotto io non ho parole non dico nient'altro un saluto sempre comunque forza del calcio recuperate il video del post partita della Lazio vi aspetto domani per le partite di domani un bacione bella rega vamos ciao